L'audio che segue deve essere usato esclusivamente a fini terapeutici, in particolare quelle sere in cui torni a casa dopo una giornata molto impegnativa, il tempo cattivo, il traffico impossibile, colleghi insopportabili, il capo incontentabile, problemi nella vita di coppia e chi più ne ha più ne metta. Ecco, allora accendi la candela aromatica iurvedica, metti su la fontanella zen con il gorgoglio dell'acqua sui ciotoli, la sciarpa colorata indiana sulla paga giù, indossa le cuffiette, chiudi gli occhi, rilassa le spalle, un respiro profondo e ora andate tutti a fanculo Andate tutti a fanculo C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Ci siete stati sul cazzo fin da subito Avete delle facce di merda Non potevamo celarvelo fino in fondo Non sarebbe stato onesto intellettualmente La parte di chi come noi Si prodiga per mandarti a fanculo Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo E ora Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo E ora Andate tutti a fanculo Tutti a fanculo Tutti a fanculo Tutti a fanculo